Ciao Dari, come stai? Questo è un po' della città di Santiago, nel giorno, sono le undici, sera o mezzogiorno? Questo si vede dal departamento del mio fratello, e questo è il mio ultimo giorno in Santiago. Questa è una chiesa evangelica, ma io mai sono andata lì, io veramente sono più cattolica. Non vado alla chiesa, però non mi piace molto la chiesa evangélica. Questo che si vede da lontano è un museo, si chiama il museo interactivo. È un museo per bambini. Io sono andata una volta. È molto divertente. Ci sono molti giochi per bambini. Qui si può vedere un po'. Questa è la comuna della granja. È un luogo di Santiago. Ma io vivo in la comuna della Florida, vicino a questa comuna. Ci sono molti alberi. La chiesa evangelica. si chiama Chiesa Pentecostal. Io penso che in Italia ci sono chiese uguali. io sempre entro per questa porta. un columpio. la bambina a me piaceva molto giocare nel columpio. Ma adesso sono più grande. Sono vecchia. questo è un po' di Santiago. literato? Le cose. ONG vamos a cererir un po' di Catrice. Oops. scusì l' chemical